Ragazzi, oggi assaggero queste caramelle che insieme a questo liquido che c'è dentro qui sono aspe Ok, le apro da qua Adesso le assaggio senza il liquido Adesso apro la penna Scusa che sono ancora senza crema Adesso l'apro con la forbice perché non riesco a capirla Ok, ora vediamo com'è questo tipo Dove c'è questa crema Non si apre Adesso prendo una caramellina Ce lo metto dentro Allora, lo metto qua Si vede, si Non so come funziona Non funziona Aspettate Ok, capito come si apre? Si apre da qua Questo lo metto dentro Ok, vediamo Assaggiamo 3, 2, 1 Ok Come si apre da qua Buona Ora le mando un'altra Ok Ok Sono buona Adesso ho anche questo Una tu Allora, sto dicendo Io le preferisco senza questo Troppo aspre Ok, adesso Apro la penna Ce lo metto Togliuto Ok E adesso assaggiamo Se vi è piaciuto questo video Lasciate un like Iscrivetevi al canale E queste caramelle sono buone Quindi ve le consiglio E niente, ciao Ciao